Siamo stati due settimane in Bolivia e questi sono i nostri hotel. Primo hotel, hotel la siesta a Santa Cruz della Sierra. Stanza piccola con un bagno con una doccia fenomenale. Vabbè per una notte va più che bene. La nostra camera a sucre, letto doppio, camera sembra abbastanza spaziosa. Questo è il bagno con i sanitari marroni, televisione e piccolo armadio a muro incassato. Ecco l'albergo da Potosi, camera con poltroncina in pelle, umana, angolino soggiorno con tulipani tipici di Potosi. Il bagno con dolce, dettagli del decoro del bagno e classico armadio a muro, tv con soffitto decorato. Stamana ci siamo accorti di avere anche un terrazzo. Il nostro hotel a Oyuni, la Stolas. Angolo, frigo, tv e tavolino. Ingresso sulla sinistra, armadio e porta del bagno. semplice ma carino. Classica doccia, fono in dotazione e kit da bagno. La stanza si affaccia sulla reception e sul patio esterno. Arrivate nel nostro hotel del Salar, D'Ambo Coquesa Lodge. Angolo riscaldamento, con un camino e angolo relax. Un po' di sale che non può mancare qui. E di qua andiamo per il bagno. E da questa nicchia entriamo e troviamo l'angolo WC. E questo è un angolo doccia in pietra. Kit del bagno. E questa è la nostra vista dalla finestra. Camera spettacolare a dir poco. Eccoci arrivati allo Slamencos Hotel. Questa è l'area comune dell'hotel. Questa volta è toccata una camera tripla. Questo è il nostro angolo relax tisane. Adesso un matè di coca non ce lo leva nessuno. Questo è il bagno. E questa è la doccia. Un po' di varianità. E le camere sono proprio sulla laguna e rionda. Dove nella sponda possiamo trovare un sacco di finicotteri. eccoci arrivati alla Paz. Questa è la nostra camera dell'hostel Naira. Oddio il quadro sopra il letto è un po' inquietante. Questo è il bagno di un colore azzurrino e classica doccia colibiana. Siamo tornati per la seconda volta all'hostel Naira e questa è un'altra tipologia di camera. Lo stile dei quadri è sempre lo stesso. La zona lavandino è leggermente diversa. Questa è la zona doccia. Eccoci arrivate a Copacabana e questo è il nostro hotel. Hotel Rosario del Lago. Questa è la zona soggiorno. Relax. E questa è la zona letto. Dietro il letto zona armadio misto aperto e chiuso. Che noi già abbiamo invaso le valigie. Zona lavandino bagno. Con vasca. Set di cortesia bagno. Il bagno sembra manchi qualcosa ma... E' qua. E questa è la vista dalla camera sul lago Titicaca. Questo è il nostro albergo all'Isla del Sol. Sul lago Titicaca. Anche qui camera tripla. Questo è il bagno. Con doccia. E qui domattina avremo la vista sul lago. Perché adesso è notte. E quindi ve la farò vedere domani mattina. Questa notte dormiamo qua. Siamo anche al piano di sopra. Ecco qua. Questo è il nostro albergo. Numeri 20 e 21. E queste sono le sedute. Televisione condivisa. Abbiamo il crepoggio a piedi. E ricarica USB.